Posti di blocco, ricerche nei boschi con unità cinofile, elicottero in sorvolo sulla zona. Questo è il dispositivo messo in campo dai carabinieri durante tutta la notte per intracciare l'autore dell'efferato omicidio avvenuto ieri pomeriggio a Pinasca. Assuntino Mirai, 66 anni, è stato ucciso in un bosco in località Cro, al confine fra San Pietro, Vallemina e Pinasca, con alcuni colpi di fucile sparati al volto. Dopo il delitto, l'omicida è fuggito nei boschi. Alla fine, l'uomo in fuga, stremato, infreddolito e senza possibilità di uscire dalla zona, accinturata da oltre 60 carabinieri, si è fatto trovare disarmato nei pressi della propria abitazione, già presidiata a distanza da personale in borghese del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino. I carabinieri, prima di intervenire, hanno aspettato per ragioni di sicurezza che l'uomo uscisse dalla casa senza armi e a quel punto lo hanno bloccato. Si tratta di Stefano Barotto, 69 anni. Grazie a tutti.